Ragazzuoli qui è salvo E' Nick E siamo qui per annorgiarvi il nostro grandissimo progetto Dell'estate Per il più grande fantacalcio di TikTok E YouTube Italia Quindi ragazzi Che prima di andare ai requisiti ci sono delle cose molto molto semplici per l'iscrizione ragazzi L'iscrizione ovviamente è totalmente gratuita Basta scriverci in privato qui su TikTok siete tutti benvenuti E anche se qui ce ne hai quello importantissimo Mi raccomando Non ci seguite ragazzi non vi facciamo partecipare Mi raccomando Quella è la fonte di iscrizione per questo Fanta Possono partecipare qualsiasi TikToker, Youtuber, chiunque voglia Fra follower chiunque voglia E ovviamente questo fantacalcio sarà tutto registrato Sì su YouTube ma anche qui su TikTok ragazzi Faremo anche delle live a riguardo per gli aiuti giornata di fantacalcio Vi aiuteremo nelle vostre formazioni Sì su TikTok e anche su YouTube E andiamo ai requisiti Nick Vediamo un pochino Qua ho parlato tutto io ma qua ci vuole la grande mente ragazzi Allora Primo requisito molto scontato ragazzi È che dovete essere un po' informati per il calcio Cioè non è che potete venire al Fanta e dire Che ne so chi è Cacatastella Per esempio Dovete conoscere i giocatori Conoscere un po' il fantacalcio Un consiglio Poi se venite solo per divertirvi Venite pure Perché c'è anche un altro requisito Che sono i soldi ragazzi E quello Può essere un deficit E un non deficit Per alcuni Allora Che arriva Ultimo ragazzi Deve sganciare 30 euro al primo Che arriva penultimo Deve sganciare 20 euro al secondo E invece chi arriva a terz'ultimo Ok Deve sganciare 10 euro al terzo E quindi ragazzi Solo questi due sono questi requisiti Tanto è lunga ragazzi La giornata Ci sono 38 giornate Quindi non preoccupatevi Fidatevi Basta che fate un ottimo mercato E siete a posto Vatti poi vabbè Ovviamente dipenderà in quanti saremo Sì Quello è ovvio Diciamo che questo qui Diciamo Cioè I Diciamo i soldi da sganciare Nick ha parlato Se siamo dai 10 in su Ecco Dai 10 partecipanti in su Giusto? Sì Questo si parla Se tipo che ne so Ad esempio Siamo Per dirvi In 6 In 6 O in 8 Ovviamente Che ne so Solo l'ultimo E per ultimo Sganceranno lì In questo caso E la ricompensa La prenderanno solo Il primo E il Se saranno solo il penultimo E l'ultimo Ragazzi Saranno solo 10 e 20 E non 30 E così Dipenderà Tutti in quanti siamo Poi Sul gruppo Telegram Vi scriveremo Quando ci sarà l'asta E ci sentiremo Proprio tutti insieme E faremo l'asta Tutti insieme E ci divertiremo E ci divertiremo Veramente Un casino Ragazzi Perché potete Parlare con noi Ci divertiamo Ci conosciamo Meglio Veramente ci divertiamo Un po' Vabbè Comunque ragazzi Se vi piace l'idea E vi piacerebbe Comunque Essere competitivi In questo 2024 2025 Basta ragazzi Scriverci qui in privato Su TikTok Semplice Semplice Mi risponderemo subito Anche scrivete Anche sul commento Fate come volete Ragazzi E noi vi diremo Il nome del nostro Gruppo Telegram Di Unirete E' molto importante Telegram ragazzi Perché per quando Dobbiamo fare Aste di riparazioni O tutto in generale Dobbiamo comunicarci In qualche modo Ecco Tutti insieme Non è che possiamo Non possiamo Non possiamo Proprio parlare Ma è un mezzo Di comunicazione Che è Telegram Quindi Scaricatevelo Ragazzi Non avete paura Del numero Personale Potete metterlo Nell'impostazioni Veramente Liberamente Privato Che nessuno Può vederlo Quindi non avete Paura di questo Sì Semplice Semplice Per chi Magari vuole La privacy Che è giusto Quindi ragazzi Fateci sapere Qui da salvo E da Nick E tutto Sì E brazo